Gli amici del cammello sono in vantaggio per 5 a 2 contro il New Real Fatatrack con Gianfranco Lavecchia che adesso in versione super va a cercare un lancio lungo per nessuno. Adesso c'è la sponda di testa cercata dagli otti, la palla termina sul fondo. Mancano dunque 8 minuti al termine con i bianco-azzurri che sono ormai vicinissimi ad un altro successo. Adesso Vandermele di testa a liscia e poi di testa il 6 a 2. Leggiata dal numero 7 di Tramma. 6 a 2 dunque pratica archiata. Vandermele è entrato, è andato via libera alla rete del 6 a 2. Adesso Liotti calcia direttamente, deviato, corner per il Fatatrack. Lo stesso Liotti dalla bandierina. C'è libero Cacace sul secondo palo, viene servito, va di testa. Prova a intervenire un avversario ma Circolo non ha problemi. Corra di testa lontana Mele, poi un rimpallo. Casa Massima è ultimo uomo, perde palla, c'è un fallo di mano. Con Bozzi, portiere dei Fatatrack che va subito a rinvio. Preda di Erra che poi calcia direttamente a mano aperta. Calcio d'angolo, il portiere dei Fatatrack evita guai peggiori. Alla bandierina sempre capitana la vecchia. Forte e teso al centro, ci sarà un nuovo calcio d'angolo, anzi rimessa laterale. Zona d'attacco per la vecchia. Si bisce in una pirouetta improbabile. Lotti di destra, stramma ancora di testa. Piaccia. Erra lascia scorrere, la palla forse è uscita, poi si rifugia in un calcio d'angolo. Prendiamo l'ultima azione con Casa Massima dalla bandierina. All'indietro ancora per Raffaele Liotti che trossa un po' il destro. La palla che termina a lato. Circolo. Serve ancora la vecchia che va fino alla sua metà campo. Prendersi palla. Cambio di rimessa, ha perso troppo tempo. Squadra in maglia bianco-azzurra. Casa Massima ancora, prova a calciare, poi un rimpallo. Si rifugia in numero 39 in spalla laterale, in zona d'attacco. Ultimissima azione prima di chiudere il collegamento. Prova a tenere viva la speranza ancora, il patatrack in questi minuti finali. Palla forte e tesa al centro. Erra prova un autorete, non ci riesce. Di tram prova ad allargare, poi parte ancora il contropiede con il franco che subisce un fallo. Poco dopo il centrocampo, se ne incaricherà il flaco, Erra. Terra con il destro deviato in calcio d'angolo. Poteggio di 6 a 2 per gli amici del cammello contro il new reappatatrack. Chiudiamo qui il nostro collegamento.